Sulla nuova PAC abbiamo sottolineato come l'Italia creda doveroso immaginare, in linea con quanti erano prima obiettivi italiani di altre nazioni, oggi tutta roba, di garantire la sovranità alimentare europea con una PAC che sia incentivante e non invece molto condizionante come è avvenuta per la PAC che è stata disegnata negli anni passati. La PAC deve tornare ad essere lo strumento che garantisce il reddito agli agricoltori, gli investimenti sull'agricoltura dal nostro punto di vista sono investimenti che non rappresentano un privilegio per le imprese agricole ma un privilegio per gli stati di avere agricoltori che manutengono il territorio a basso costo rispetto a quanto graverebbe sulle nostre istituzioni, sui nostri bilanci se loro interrompessero le loro attività. È il nostro punto di partenza, il nostro approccio a questo modello. Abbiamo parlato anche di quello che deve essere il ruolo della pesca in Europa rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, una desertificazione delle nostre marinerie, in particolare di quelle italiane, con un meno 40% rispetto alla media europea di circa il meno 28%. Abbiamo necessità di proteggere il settore della pesca in un ambito, specie del Mediterraneo, che vede una forte competizione di marinerie di paesi terzi che non rispettano le nostre regole e che evidentemente hanno un prelevo dallo stesso nostro bacino. Bisogna contemperare la sostenibilità ambientale, nella quale ovviamente crediamo, con la sostenibilità economica e di reddito e avere quindi un posizionamento, a nostro avviso, differente da quello che desertifica il nostro sistema produttivo senza raggiungere nemmeno l'obiettivo di carattere strategico di tutela dell'ambiente. Questo è il posizionamento che l'Italia ha assunto su questi temi.